Bene ragazzi, iniziamo con i razzi Phil Gluck della Weco, sempre nella Piro Box di Pietro Bel salice, gran bel salice, già un altro in partenza Caspita che cracca in grosso, molto belli Bel salice, cavolo Per essere dei razzi da 20 grammi, vada Belli Cacchio, Joseph è infoiato Che cracling enormi E la qualità c'è